Hi guys, benvenuti o ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui, come avrete già letto dal titolo, per spacchettare un pacchettino, un pacchettino. Tre pacchettini in realtà molto speciali e molto particolari, perché è un pacco un po' diverso dal solito. Vi faccio vedere il contenuto, ma sapete che prima c'è la sigla. Allora, eccoci qui, riuniti nel sacro vincolo del unboxing, per andare a vedere i pacchettini che mi sono arrivati appunto oggi. Iniziamo dal primo, già li ho spacchettati perché ragazzi, tre pacchi sono arrivati e sono abbastanza ingombranti. Ma partiamo dal primo, ovvero questa bellissima box, questa bellissima box da parte di Fanola. Quindi avete capito che il mittente del pacco è appunto Fanola. Io sono innamorato del loro marchio, perché comunque lo utilizzo da anni e anni. Utilizzandolo da anni e anni ormai so praticamente come far funzionare i prodotti, e come utilizzarli al meglio per potergli dare il massimo potenziale. Ecco, e sono super onorato e super contento di aver ricevuto questi pacchi, perché appunto nonostante i diversi anni dove io acquisto personalmente, per uso professionale, i loro prodotti, avere un risponso da parte loro per me è un grande onore, un grande piacere. Quindi eccoci qui, andiamo ad analizzare la prima box. Ok, apriamo la box. Se non faccio cadere nulla, vi prego, perché tanto sono io quello che combina danni. E qui dentro abbiamo tutti, tutti, e ripeto, tutti i prodotti anti-giallo. Io uso nel mio personale quotidiano i prodotti Fanola anti-giallo, lo shampoo anti-giallo che amo ed è il più pigmentato che esista. E qui dentro abbiamo appunto tutta la collezione No Yellow, dedicata appunto ai capelli biondi, a capelli con mesh, total bleach, capelli grigi, bianchi, e adatta appunto a l'olio. Andando nello specifico, prendiamo e preleviamo i singoli prodotti. Spero di non far cadure, cadere nulla, perché combino sempre. Allora, primo prodotto che vado a pescare totalmente a caso, abbiamo la crema termoprotettiva per lunghezze e punte. Allora abbiamo questa crema termoprotettiva. Allora, per esempio, ancora io questi prodotti non li ho provati, stiamo facendo solo un unboxing. Poi farò un video recensione sicuramente perché li utilizzerò, vedete, appunto i miei capelli che sono attualmente bianchi. E questa crema protettiva per lunghezze e punte, anch'essa fa parte della linea No Yellow, e come dice qui, è una crema protettiva a lunghezze e punte, ideale per capelli biondi, decolorati e con mesh o grigi. Si gira la cuticola grazie all'efficace azione filmante. La sua formulazione arricchita con lo speciale complesso termoattivo protegge i capelli dall'eccessivo calore e dal prodotto Fon. Piastra e strumenti a caldo, lasciando i capelli morbidi, setosi e lucenti, prevenendo la formazione di doppie punte. Utilizzare una piccola quantità sui capelli umidi e asciugare a Fon, o su capelli asciutti, prima dell'utilizzo di strumenti a caldo. Non risciacquare. Sarò curiosissimo di provarli, anche perché vedete appunto la mia situazione, ma comunque anche se avete i capelli colorati, un prodotto antigiallo non può fare altro che andare ad esaltare il vostro pigmento, perché se avete chiaramente un pigmento freddo o comunque un colore freddo addosso, o volete andarlo a raffreddare, utilizzate i prodotti antigiallo. Funzionano, attenzione giustamente, ad avere i capelli decolorati, perché i capelli, se sono decolorati, questi prodotti funzionano. Altrimenti non danno l'effetto antigiallo come sperato, perché appunto le cuticole e le squame sono completamente chiuse, o addirittura è stato aggiunto del pigmento tramite una tintura, e quindi non dà l'effetto antigiallo desiderato. Però sicuramente se valgono come prodotti, nulla vi toglie che non potete utilizzarlo, anche se avete i capelli castani, per dire. Andiamo con il secondo prodotto, è lo shampoo antigiallo. Io amo lo shampoo antigiallo di Fanola, ragazzi. È uno dei più pigmentati che esista in commercio. E insieme abbiamo la maschera. Io li utilizzo nel mio quotidiano, ripeto, per uso professionale e davvero vi sbiancano i capelli, che è una meraviglia. Ovviamente se li avete giallo piscio non può fare miracoli del tipo, se ancora la decolorazione non è stata portata fino al suo massimo grado di schiaritura, questi prodotti non renderanno i vostri capelli bianchi, chiaramente. Ma se è lasciato in posa, o se è utilizzato come maschera sotto la doccia, o come shampoo sotto la doccia, senza lasciarli in posa, quindi col tempo di posa è limitato, notate una grandissima tonalizzazione anche per quei 2-3 minuti che li tenete su. Vanno massaggiati, o addirittura applicati proprio generosamente come? Con pennello e ciotola, quindi proprio come un vero e proprio trattamento antigiallo, che vi assicuro funziona. Io li uso da anni, li amo, li amo. Per chi mi segue su Instagram da diverso tempo sa che io li utilizzo quotidianamente. Quindi ragazzi, questi super approvati, ma non c'è bisogno che ve lo stia qui a dire. Passiamo avanti al quarto prodotto, abbiamo la mousse antigiallo. Anche questa è una nuova uscita in casa Fanola, sempre facente parte della linea No Yellow. Questa qui è la Incredible Foam, il conditioner mousse in mousse antigiallo, non so parlare. E questo qui l'ho utilizzato, ne ho anche io una a casa perché la utilizzo, detto molto sinceramente, la utilizzo per sbiancare i capelli, per fare i capelli bianchi, per fare i capelli grigi, per tonalizzare. E' una bomba molto 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 più pigmentata dello shampoo antigiallo e della maschera. Dà quel colore puro, una tonalizzazione assurda che fa questo prodotto. Ragazzi, se avete i capelli grigi o volete fare i capelli grigi, vi servono come mantenimento perché i capelli grigi sono difficili da mantenere, appunto. Se li sapete fare bene è un gioco da ragazzi perché basta con lo shampoo e con la maschera antigiallo e qualche prodottino ogni tanto per tonalizzare. Però ragazzi, cioè, assolutamente è bello, stra, stra, stra consiglio. Andando avanti abbiamo un'altra nuova uscita. Questa qui è il conditioner bifasico antigiallo senza risciacquo. Abbiamo un conditioner anti-giallo bifasico, quindi è da miscelare prima. La soluzione diventa appunto questo colore anti-giallo, lo chiamo io perché è realmente un colore anti-giallo. E va spruzzata ai capelli prima di asciugarli appunto con lo spray. Anche questa collezione, no yellow ovviamente. Per mantenere i capelli sempre con un giusto tono, affidatevi a dei buoni prodotti anti-giallo. Come questi qui, ovviamente li proverò e vi farò sempre sapere per i prodotti che non ho ancora utilizzato. Però do tanta fiducia e so che funzionano. Passiamo avanti con l'ultimo prodotto di questa box stupenda, la chiamo io la box dell'anti-giallo. Abbiamo il no yellow spray protettivo profumato. Questo è uno spray protettivo profumato, ovvero un vero e proprio profumo per capelli. Sempre fatto a spray, qui c'è scritto che protegge i capelli biondi o decolorati da mesh o grigi da aggressioni di agenti esterni come smog, polveri, sottili e metalli pesanti. I capelli rimangono vitali, brillanti, protetti e profumati. Vaporizzare in un qualsiasi momento della giornata sui capelli asciutti. Quindi è realmente un vero e proprio profumo. Tutti questi prodotti hanno un profumo meraviglioso. Voi ovviamente non potete sentirlo ma io sì. Hanno un profumo ottimo, a me piace tantissimo. Ho odorato anche la crema termoprotettiva. È ottima, direi profumazione ottima. Mi piace tantissimo. E nulla ragazzi, c'è qui pure il bigliettino scritto a mano, io ho innamorato. E questo ovviamente lo conserverò, ma passiamo all'altra super mega box. Ok, eccoci qui, passiamo avanti con l'altra super box. Ragazzi, stiamo parlando di Fanola Free Paint. E questa valigetta, ragazzi. A parte il concept che comunque... Cioè, è una reale e propria valigetta. Qui ha pure... Ecco, l'asola per trasportarla. È una vera e propria valigetta. Io ho innamorato. Letteralmente Free Paint. Sembra una tavolozza di colori acrilici. Vabbè, apriamo e vediamo assolutamente il contenuto. Sono super super contento di aver ricevuto questi prodotti, ragazzi, perché ve lo giuro. Avere un risponso da parte di un'azienda che seguite e amate da anni è tanta roba. Tanta roba. Ok, allora. Qui abbiamo lì Free Paint. Free Paint non sono altro che colori diretti, appunto, con marchio Fanola. Dentro questa bellissima box abbiamo tantissime colorazioni. Abbiamo tantissime colorazioni. Analizziamo queste qui su. Abbiamo giallo, arancio, rosso, viola e il clear, che appunto è il trasparente o comunque il prodotto per diluirlo. Qui giù abbiamo un acqua, un blu, un verde, un grigio e un grigio scuro, chiamiamoli. Ma adesso andiamo a vedere nello specifico ogni singola colorazione tramite la bellissima tavola colori che appunto ricorda una tavolozza. Io sono innamorato. Vi faccio vedere tutte le colorazioni nello specifico. Una volta liberati del grande ingorgo, perché comunque è un'impresa far vedere questi prodotti ogni volta così grandi. Qui abbiamo la tavolozza colori, appunto, di tutte le colorazioni che sono presenti all'interno di queste Free Paint da parte di Fanola. Allora, le colorazioni sono esattamente tutte queste intorno. Partiamo dal Pure Aqua, che è appunto questo azzurro stupendo. Io sono innamorato. Poi abbiamo il clear, che appunto è quello bianco, quello trasparente, che potete miscelare insieme a tutti gli altri per creare le vostre tonalità pastello. Poi abbiamo il flash yellow, che è appunto questo giallo super 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 vibrante. Poi abbiamo l'orange shock, che è appunto questo super arancio, super mega power, che in realtà mi intriga parecchio. Non sono una particolare amante degli arancio, però questo è molto bello. Abbiamo spicy red, molto bello anche questo. Sicuramente è molto curioso da poter miscelare, poter giocare con effetti di luce giallo-arancio-rosso. Poi abbiamo questo viola, ragazzi, che credo sarà proprio mio. Ve lo dico molto sinceramente. Beh, è stupendo. Poi abbiamo questo electric blue. Anche questo è stupendo, però poi sono terrorizzato dal blu, che non si toglie più perché diventa verde. Quindi non saprei, ma sicuramente ve lo farò vedere su Instagram. Poi abbiamo il double lash, che è appunto questo grigio grafite quasi. Bellissimo, come un cenere intenso, insomma, no? Poi abbiamo cold steel, quindi un acciaio freddo. Anche questo bellissimo. Abbiamo l'emerald green. Stupendo. Un bosco, un color bosco bellissimo. Noi qui abbiamo i possibili mix, che possiamo andare a realizzare col clear o con qualsiasi altro colore. Perché noi siamo liberi, siamo artisti, siamo padroni di poter miscelare ogni colore con ogni colore della tavolozza. Quindi se voglio ottenere un lilla, viola, clear. Semplice. Vado a diluire il viola, rendendolo più pastello, più leggero. Sia come durata, attenzione perché i colori pastello comunque hanno una limitata durata. Sia limitata durata? Una durata limitata, perdonatemi. Sia, lo vado a rendere più pastello, ma anche più leggero, ecco. Sia come durata che come tonalità e intensità. Qualsiasi colore può essere miscelato con il clear, per come qualsiasi altro colore può essere miscelato con qualsiasi altro colore. Potete crearvi la vostra shade personalizzata. Io amo giocare con i colori diretti, amo e ringrazio tantissimo Fanola per questo pacco meraviglioso. Nulla ragazzi, presto vedrete magari qui su YouTube o pure su Instagram cosa combinerò e che colore farò. Perché adesso vi tocca scegliere un colore e giocarci un po' perché amo giocare con i colori, amo giocare con i miei capelli e vedermi sempre in modo diverso. Fatemi sapere che ve ne pare del look. L'ho realizzato in diretta su Instagram. E se non mi seguite su Instagram, fatelo perché vi perdete tanti tanti look, tante tante novità, tante piccole cose che qui su YouTube purtroppo non posso far vedere per questione di praticità. Seguitemi su Instagram, seguitemi su TikTok, seguitemi ovunque. Seguitemi qui su YouTube, attirate la campanellina, mettete like, lasciate un commento. E fatemi sapere che colore vi piace di più. Fatemi sapere che colore vi piace di più di queste free paint e quale colore avete, pazzo, avete mai avuto in testa. E nulla. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci rivediamo alla prossima. Io vi ringrazio per aver guardato questo video.